Ciao amici, mancano pochi minuti a mezzanotte, il giovedì sta per terminare e si darà spazio al venerdì che inizierà tra pochissimo, io intanto mi preparo per i saluti prima del giornale della mezzanotte. John John Girls, Bedroom Eyes, quasi mezzanotte, rivediamo le principali notizie prima di dare spazio al giornale della mezzanotte, ancora buonanotte, buon ascolto e buon viaggio ad Alessandro De Gerardis, sulla 28 Porto Gruaro Sacile, code per lavori tra Fontana Fredda e Sacile Est in direzione dello svincolo di Godega Sant'Urbano, ricordiamo la chiusura del tratto della 6 tra Millesimo e Ceva in direzione Nord Torino, chiusa a Tortona sulla 7 in uscita da Milano, abbiamo la chiusura del tratto in 9 tra Lago di Come e Como Centro verso Lainate, riapertura prevista per le 5, il tratto della Firenze-Pisa Livorno tra Genestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, anch'esso riaprirà domani mattina, questa volta però alle 6 e alle 6 riaprirà anche in A1 Calenzano che è chiusa in entrata verso Bologna, attenzione sulla 3 ci sono delle chiusure per il passaggio di un trasporto eccezionale, riapertura prevista per le 4, è chiusa Napoli Centro in uscita da Salerno, Napoli Centro anche in entrata verso Napoli, Napoli via Marina in entrata verso Salerno e San Giovanni in uscita da Salerno. Queste le principali notizie, traffico scarso e regolare, noi ci risentiremo tra meno di ore dopo il giornale della mezzanotte per i saluti quando sarà già venerdì, vi lascio con Bart Baccarac e welcome by, buonanotte! Buonanotte ma poi ci risentiamo tra poco, tra circa mezz'ora per i saluti finali prima di dare l'avvio alla notte, ciao!